Bentornati amici telespettatori, siamo sempre con Dottori in prima linea in compagnia della dottoressa dietista e nutrizionista Lucrezia Ricupero. Bene dottoressa, noi la seconda parte della trasmissione della puntata la dedichiamo alle domande che il pubblico che ci segue da casa ci fa, ci sottopone e noi facciamo solo il postino, le riportiamo a lei per dare appunto una risposta ad alcune curiosità. Una nostra telespettatrice ci scrive, buongiorno dottoressa, cos'è l'omocisteina e cos'è l'acido folico e soprattutto a cosa servono? Entrambi, sia omocisteina che acido folico, sono dei nutrienti, quindi delle sostanze chimiche indispensabili per la vita che si trovano all'interno degli alimenti. L'omocisteina in realtà è un amminoacido da un punto di vista chimico, quindi si tratta di un componente delle proteine. Quindi come tale lo possiamo ritrovare in alimenti proteici come dalla carne al pesce, insomma ai legumi, mentre l'acido folico è una vitamina, quindi anch'essa presente in molti alimenti anche di origine sia animale che vegetale. Sull'omocisteina però c'è da dire che un eccesso di questa sostanza all'interno del nostro organismo purtroppo è capace di aumentare l'incidenza di patologie cardiovascolari. Al contrario l'acido folico ha in realtà la possibilità di abbassarne la quantità. Tra l'altro so che è molto importante anche per le donne in stato interessante l'acido folico, deve avere una concentrazione maggiore. L'acido folico è importantissimo insomma in donne in gravidanza in particolare, infatti spesso viene integrata addirittura prima della gravidanza stessa. In una gravidanza insomma programmata si consiglia di integrare anche prima dell'inizio di un'eventuale gravidanza l'acido folico e poi di continuarla insomma durante la gravidanza. In questo caso l'acido folico è importante perché è in grado di prevenire la spina bifida che è una patologia insomma del feto e quindi poi del neonato. Quindi viene utilizzato un po' come screening, come insomma possibilità per evitare ovviamente questa patologia. Ma in stato interessante, le donne devono seguire un'alimentazione oppure c'è ancora quel vecchio detto bisogna mangiare per due? No, assolutamente, questa insomma è una credenza errata della comune, abbastanza comune. Sicuramente durante la gravidanza la donna ha delle esigenze nutrizionali particolari, quindi qualcosa cambia ma sicuramente non bisogna mangiare per due. In particolare c'è un fabbisogno maggiore di qualche nutriente, cioè principalmente delle proteine. Quindi se è vero che un po' di calorie in più necessitano ovviamente perché il metabolismo di base cambia, quindi la donna in gravidanza consuma di più rispetto insomma ad una donna che non lo è, però queste calorie in più devono derivare in particolare dalle proteine. Anche il fabbisogno di sali minerali e di vitamine sarà aumentato e anche quello di fibre. Perfetto, un altro telespettatore ci scrive, cosa sono i grassi idrogenati e perché è meglio evitarli? Allora i grassi idrogenati sono dei particolari tipi di acidi grassi che in natura sono presenti ma in una quantità ridotta. Mentre gli acidi grassi idrogenati vengono prodotti industrialmente, chimicamente, quindi sono un po' degli acidi grassi di sintesi che troviamo in particolare nei prodotti confezionati. Quindi nei prodotti imbustati o confezionati si formano o si desidera insomma produrre degli acidi grassi idrogenati perché permettono al prodotto di essere conservato più a lungo. Gli acidi grassi idrogenati però vanno assolutamente evitati perché sono rischiosi per la salute, in particolare aumentano anche qui l'incidenza di patologie cardiovascolari. Insieme insomma al colesterolo e l'LDL, quello cosiddetto cattivo, e agli acidi grassi saturi, gli acidi grassi idrogenati hanno la capacità di depositarsi nelle arterie e quindi formare la placca teromasica che produrrà insomma un ostacolo al flusso di sangue nelle arterie. Un'altra amica telespettatrice, perennemente a dieta, ci scrive Buongiorno dottoressa, io vorrei sapere perché, anche se non mangio, ingrasso ugualmente. Allora, ovviamente in primis dobbiamo escludere eventuali patologie, altre patologie, perché è possibile anche che alcuni squilibri ormonali, come malfunzionamento di tiroide o eccessivo cortisolo, possono ovviamente indurre un aumento di peso. Però questa domanda è interessante perché a volte è anche probabile possibile che nonostante il quantitativo di cibo ingerito sia poco, il corpo tenda ad aumentare di peso. Questo accade, può accadere, escludendo, come già detto, altre patologie, in quanto il nostro corpo ha la capacità di adattarsi alle condizioni esterne. Questo significa che nel momento in cui noi mangiamo poco, il nostro organismo non può permettersi di consumare molto. Quindi può succedere che il nostro organismo tenda ad accumulare quel poco che mangiamo e a spendere di meno. Ricordiamoci in effetti che il nostro organismo non ci abbandona quasi mai, cioè raramente abbiamo degli episodi di svenimento per mancanza di cibo. Questo perché, come dicevo prima, riesce ad accumulare di più nel momento in cui diamo meno e a spendere meno. In effetti, ad esempio, possiamo anche stare tutta una giornata intera senza assumere cibo, ma il nostro organismo, insomma, resiste anche a queste condizioni estreme. Ovviamente se questo si fa, insomma, giorno dopo giorno, allora il nostro organismo ha la capacità di adattarsi anche a queste situazioni. Diciamo che c'è un circolo vizioso che bisogna, insomma, cercare di eliminare. Un altro del spettatore ci chiede, cos'è la dieta chetogenica e soprattutto è pericolosa? Allora, la dieta chetogenica è un particolare tipo di dieta che prevede, in sostanza, l'esclusione o la riduzione a percentuali molto basse dei carboidrati. Quindi da carboidrati semplici, come frutta, insomma, caramelle, zuccheri vari, a carboidrati anche complessi, cioè l'amido, e quindi anche prodotti farinacei, la pasta, il pane. In questa dieta, dunque, si prediligono principalmente alimenti proteici, la carne o il pesce, in particolare, accompagnati spesso anche da verdure che apportano sali minerali e vitamine. Viene così chiamata perché in una condizione tale di riduzione di apporto dei carboidrati si ha una forte produzione, un'aumentata produzione, dei cosiddetti corpi chetonici, e da qui, appunto, dieta chetogeno-chetogenica, che sono, insomma, delle sostanze chimiche molto acide. Ora, le diete chetogeniche permettono comunque una riduzione di peso, anche, insomma, abbastanza velocemente rispetto a delle diete tradizionali, però sicuramente non possono essere effettuate per un tempo lungo. Nel momento in cui si decide di fare una dieta chetogenica, sicuramente si consiglia il supporto medico o di un esperto, e sicuramente vanno fatte per brevi o brevissimi periodi di tempo, perché è una condizione, insomma, che può portare, ovviamente, a delle, dato che non è equilibrata come dieta, a delle conseguenze negative per l'organismo. Perfetto. Inoltre, la telespettatrice ci scrive, non sono molto golosa, ma fatico a mettermi seriamente a dieta, perché vengo assalita da attacchi di fame. Come posso fare? Allora, sicuramente bisogna capire, in questo caso, la natura degli attacchi di fame. L'attacco di fame, così, insomma, come è stato, insomma, detto, di solito è legata ad una condizione psicologica. Quindi bisogna analizzare, insomma, quando avviene l'attacco di fame, se c'è un orario particolare o se c'è un evento che l'ha scatenato. Oppure è possibile anche che l'attacco di fame sia dovuto a degli squilibri ormonali. Soprattutto nelle ragazze una condizione abbastanza frequente può essere quella di un'insulina alta, dell'iperinsulinemia, dove l'insulina è un ormone che effettivamente può portare ad una sensazione di fame. Quindi occorre sicuramente capire in primis la natura dell'attacco di fame e poi aiutare, insomma, sicuramente farsi aiutare anche a saperlo gestire o contrastarlo. Un'altra telespettragice ci scrive sono entrata in menopausa, il mio peso non è cambiato, ma la mia taglia sì. Sono passata da una 42-44 a una decisa 46. Cosa è successo? Ecco, la menopausa è un momento della donna molto particolare, in cui si ha un brusco abbassamento del metabolismo di base, che significa che la donna in menopausa consuma meno. Fisiologicamente, durante l'invecchiamento, col passare degli anni, in realtà tutti tendiamo ad avere un dispendio energetico minore. Quindi questa cosa è un po' triste da dire, ma in realtà con gli anni dovremmo mangiare sempre meno. Nella donna però accade che nella menopausa questo abbassamento del metabolismo basale è brusco. E soprattutto c'è una distribuzione della composizione corporea abbastanza particolare, perché degli studi dimostrano come nella menopausa si tenda ad aumentare la massa grassa a discapito di quella magra, soprattutto nella zona addominale. Quindi cosa succede? Il peso può anche rimanere uguale. Questo perché nel momento in cui noi ci pesiamo, in realtà misuriamo la massa totale, senza distinguere quella grassa e quella magra, che sono le due componenti che più possono variare nel nostro organismo. Quindi cosa può succedere? Che la massa magra e muscolare tende a diminuire, la massa grassa tende ad aumentare. C'è una sostituzione della natura della massa. E quindi il peso può rimanere anche invariato, può essere lo stesso, ma la massa nel nostro organismo cambia. E quindi, dato che soprattutto a livello addominale si tende a concentrare la massa grassa, soprattutto nel periodo della menopausa, può succedere questa situazione. Purtroppo questo porta a sua volta ad una diminuzione del metabolismo di base. Quindi anche qui si innesca un circolo vizioso che va corretto. Bene, dottoressa, le domande da casa sono terminate. Io approfitterei della sua presenza per fare un invito agli amici telespettatori perché siamo prossimi appunto alla stagione estiva. Quindi ora dovremo tutti andare in spiaggia, per i bagni, le tintarelle e quant'altro, di non fare le diete fai da te. Perché molte volte sono pericolosissime, perché non bilanciando appunto gli alimenti abbiamo degli scompensi che poi possono portare veramente a delle patologie, a volte anche irrisolvibili. Quindi prima di fare proprio qualche accorgimento consiglio anche ai telespettatori per poter perdere peso, ma senza il fai da te. Cosa devono eliminare per togliere immediatamente qualche chiletto di troppo che non sia logicamente una cosa sostanziale? Diciamo che in realtà non occorre eliminare quasi nulla a parte il cibo spazzatura di cui abbiamo parlato prima, le bevande gassate, insomma anche alle bevande gassate o troppo zuccherate. Quindi in realtà occorre mangiare un po' di tutto, ma nelle giuste quantità, senza insomma eccedere. Ricordiamo che soprattutto anche per insomma aumentare il senso di sazietà è importante diciamo mangiare verdure, mangiare fibre, preferire cereali integrali, quindi pasta, pane, da falina. Mangiare spesso anche? Mangiare spesso, quindi il consiglio è quello di comunque di non arrivare mai affamati insomma ai pasti principali. Fare gli spuntini. Fare gli spuntini iniziando da una buona colazione, uno spuntino mattutino, pranzo, la merenda, quindi anche nel pomeriggio insomma qualcosa come un frutto o uno yogurt ad esempio e infine una cena. Insomma tutto equilibrato con la quota appunto di verdure, di cereali, quindi di carboidrati ma anche di proteine. Quindi i cibi nostri, i chilometri zero chiamiamoli così. Perfetto, perfetto. Va bene, il nostro tempo a disposizione è terminato, noi vi diamo appuntamento qualora lo vogliate alla prossima puntata. Voglio ringraziare la dottoressa Lucrezia di averci tenuto compagnia e vi auguro buon proseguimento sempre su Video M Italia. a a a a a a a Il poliambulatorio Cardiopiù effettua visite multispecialistiche integrati dai più completi accertamenti clinico-diagnostici. Cardiopiù, un team di specialisti al servizio della tua salute. Via Roma a Fasano, scarica la nostra app.